Si è spento le 5 di questa mattina all'età di 78 anni a causa di un tumore Don Pier Giorgio Giorgini, storico parroco di San Cesario nella frazione di Carrara. Don Pier Giorgio era nato a Fano il 4 agosto del 1942 ed era stato ordinato presbitero a Sant'Andrea in Villis il 13 giugno del 1968. Dal 30 agosto dello scorso anno era collaboratore parrocchiale di San Cesario dopo l'ingresso del nuovo parroco Don Ivan Bellomari. Dal 1 maggio del 2012 invece diventò consulente etico dell'associazione e del consultorio La Famiglia. Giorgini ha ricoperto diversi ruoli fra i quali incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e delegato dell'ufficio diocesano sezione pastorale della scuola e insegnanti di religione cattolica. I funerali saranno celebrati dal vescovo Armando Trasarti giovedì 3 giugno alle 15.30 nella parrocchia di San Cesario a Carrara di Fano.